C'è Riscotti, giudice di Tu si che vale, secondo autore, amatissimo, famoso anche per commuoversi senza troppi indugi se la situazione lo porta a farlo e lo conferma in un'intervista a TV Sorrisse e Canzoni. Quando c'è una storia particolare per la quale vale la pena commuoversi, non me ne vergogno, invito tutti a non vergognarsi di sapersi emozionare. Dunque si spende in qualche considerazione sul programma di Canale 5, in particolare sotto è un ammucario indicato come potenziale vincitore della scuderea Scotti. Potrebbe darmi grandi soddisfazioni, potrebbe vincere perché è il sola perfetto, conclude Jerry con la sua consueta ironia. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto. Grazie a tutti.